Bentornati, benvenuti amici, io sono Tolandus Redivivus, gestisco l'omonimo canale su YouTube, canale di divulgazione di storia e filosofia. Di cosa parliamo oggi? Parliamo in questa nostra dodicesima videolezione della storia della Russia moscovita, ci occupiamo ora di Alessio Ramanaf dello zar Alessio. Dopo la morte di Michele, ricordate, lo zar Michele Ramanaf avvenuta nel 1645 salì al trono il secondo esponente della dinastia dei Ramanaf che è appunto Alessio, al momento in cui sale al trono a soltanto 16 anni. La successione avvenne pacificamente poiché i Ramanaf erano ormai stati accettati da tutti. Alessio regnò dal 1645 al 1676 e Alessio viene descritto come una persona tranquilla, sensibile, rispettosa verso gli altri, amava scrivere e ci ha lasciato molte lettere di pregio. Molti lo considerano un sovrano debole, fu fortemente influenzato dal boiaro Baris Marosaf che era il suo istruttore filo occidentale e dal principe Ilia Milaslavski. Ilia Milaslavski era suo genero. In questa e nella prossima videolezione parliamo di quel che successe durante gli anni di regno di Alessio, anche se per descrivere la conclusione di alcuni eventi sconfiniremo negli anni del suo successore Fiodor, Fiodor III, dal 1676 al 1682 e anche negli anni occupati dalla reggenza della principessa Sofia dal 1682 al 1689. Il compito principale di Alessio fu di mantenere la pace che suo padre Michele, vi ricordate, aveva ottenuto pagando un alto prezzo. Vi ricordo infatti che nel 1617 la Russia aveva dovuto cedere la costa baltica alla Svezia e nel 1634 aveva perso il territorio di Smalensk e anche il territorio di Novgorod-Severski a favore della Polonia. Inoltre per mantenere la pace con l'impero ottomano e con i tatari di Crimea che erano vassalli dell'impero ottomano nel 1642 la Russia aveva anche rinunciato ad Azav, la fortezza di Azav sul Mar Nero. E quindi Alessio e i suoi ministri erano ben consci della debolezza della Russia e quindi impostarono una politica estera puramente difensiva. Comunque continuava l'espansione verso est. Vi ricordate la Siberia nel 1648 fu fondata a Hotsk sulla costa del Pacifico. Sempre nel 1648 un gruppo di cosacchi guidato da Zyomen di Esnihov partì con cinque imbarcazioni dalla foce del fiume Colema e doppiò le estremità nord-occidentale della Siberia e passò attraverso lo stretto che tutti conoscono che in seguito fu chiamato stretto di Bering. Quei lontani territori erano scarsamente popolati per cui bastavano pochi centri fortificati per assicurarsi il dominio sulle tribù nomadi. L'organizzazione politica era molto limitata. Ad ogni modo anche la Siberia fu governata in maniera centralistica. A partire dal 1637 la Siberia fu controllata da un ufficio speciale che aveva sede a Mosca. Inoltre i coloni russi non ebbero alcuna autonomia politica. La Siberia era destinata ad evolversi molto lentamente. Non si può assolutamente paragonare la colonizzazione della Siberia da parte della Russia a quella dei paesi occidentali nei territori extraeuropei. Infatti i coloni russi in Siberia restano sempre strettamente legati alla madrepatria e non allargarono i propri orizzonti mentali e politici entrando in contatto con civiltà sviluppate oppure fondando entità politiche completamente nuove. Da un punto di vista economico l'importanza della Siberia era marginale. Si praticava la caccia agli animali da pelliccia e il commercio con i paesi asiatici, in particolare con la Cina, era limitato. Fino all'Ottocento la Siberia rimase una remota regione della Russia, una remota retrovia della Russia adatta per esiliati e adatta ai fuggiaschi, del tutto slegata dall'Europa e dalla politica esterarussa. La prudenza dello zaralessio lo spinse ad evitare una guerra contro la Polonia. Dopo che i tatari ebbero attaccato il territorio polacco a sud nel 1646, Mosca propose ai vicini un'alleanza che però fu rifiutata dal regno di Polonia. Ma le minacce della Turchia e della Svezia finirono ben presto per favorire un avvicinamento tra Polonia e Moscovia. Tuttavia questa politica di pacificazione nei confronti della Polonia fu a un certo punto abbandonata a causa di quel che successe nei territori polacchi dell'Ucraina. Come senz'altro ricorderete gli ucraini dopo il 1569 erano passati dal controllo lituano a quello polacco. La Lituania e la Polonia erano unite e questo fatto, il fatto di essere sottomessi quasi del tutto alla Polonia e non più alla Lituania, peggiorò la situazione degli ucraini. Già da tempo i cosacchi ucraini lottavano per aumentare la propria indipendenza politica e la propria condizione sociale. Tra i cosacchi ortodossi e il governo polacco cattolico contro il riformista vi era anche uno scontro religioso. La chiesa uniate, infatti ve la ricordate, ne ho parlato nelle lezioni sulla storia dell'Ucraina e anche nelle lezioni sulla storia della Polonia. La chiesa uniate, detta anche la chiesa greco-cattolica, fondata nel 1596, che manteneva il rituale greco-orientale, però di fatto era a tutti gli effetti una chiesa cattolica, pretendeva di sottomettere gli ortodossi, quindi si tratta di controriforma vera e propria. Per tutta la prima metà del secolo la Polonia era riuscita a reprimere le rivolte e a limitare la libertà dei cosacchi, ma nel 1648 non fu così. I cosacchi insorsero in massa dando luogo a una ribellione vastissima sotto la guida di Bagdan Akhmilnitsky. Costui era un nobile di Cigirin. Questi cosacchi avevano il proprio quartier generale nella Sech, attenzione a questo nome. La Sech era un'isola, un'isoletta all'interno del fiume Dniepr. Questa Sech non esiste più, ma è stata nei secoli mitizzata all'interno dell'epopea dei cosacchi. Si tratta proprio del simbolo dei cosacchi ucraini del fiume Dniepr. Sech vuol dire cascate, o meglio vuol dire rapide, perché questa isoletta si trovava subito dopo le rapide in un punto centrale del fiume Dniepr. Fate attenzione, Sech viene scritto anche nei testi italiani, viene scritto in vari modi, quindi potete trovarlo anche in altre forme rispetto a come l'ho scritto qua, viene anche pronunciato in un modo oppure nell'altro, non importa. All'inizio, attenzione, i cosacchi registrarono molti successi, notevoli successi anche grazie alle estese brutali rivolte dei contadini ucraini nei confronti dei proprietari terrieri dei funzionari polacchi. La rivolta di Chmielninsky smosse il nazionalismo ucraino, tanto che molti la considerano tuttora una guerra di liberazione ucraina. Nel 1649 i polacchi furono costretti ad accettare una pace firmata al Lviv, in italiano Leopoli, che prevedeva ogni tipo di concessione. Il ritiro delle truppe polacche dall'Ucraina, l'assegnazione delle cariche delle province di Bratislav, Kiev e Cernigov alla piccola nobiltà cosacca, cioè alla schlachta cosacca, la rinuncia dell'unione ecclesiastica tra cattolici e ortodossi, quindi questo è molto importante, la tolleranza quindi nei confronti degli ortodossi cosacchi, l'espulsione dei gesuiti e degli ebrei, l'ammissione del metropolita di Kiev al senato polacco, quindi vedete numerose concessioni dei polacchi agli ucraini. In realtà questo trattato non fu mai applicato a causa della resistenza della chiesa cattolica polacca, ma anche a causa della contrarietà di molti cosacchi. Peraltro la Polonia poté non rispettare queste condizioni di pace a seguito della vittoria presso Ciotin sui cosacchi, i quali non ricevettero l'appoggio promesso dai tatari e persero questa battaglia decisiva. Siamo nel 1653, la sconfitta indusse Milninsky a rafforzare i legami con Mosca, quindi i cosacchi ucraini si rivolgono ai fratelli di fede ortodossi della Moscovia. I negoziati con lo Tsar erano già iniziati nel 1649, ma lo Tsar Alessio fu estremamente prudente, come lo era stato, vi ricordate, suo padre Michele Ramanov con i cosacchi del Don durante la crisi di Azov e si limitò a inviare qualche rifornimento. Infatti la politica estera russa continuava ad essere filopolacca, capite? Aiutare i cosacchi avrebbe significato andare contro la Polonia. Il ministro degli esteri della Moscovia, Afanasi Ordin Nasherkin, pensava che l'obiettivo primario della Moscovia fosse la riconquista di un accesso al Baltico e quindi cercava di evitare una guerra con la Polonia. Tuttavia le sconfitte dei cosacchi implicavano il rischio che questi ultimi fossero completamente sottomessi dalla Polonia oppure dall'impero ottomano, il che avrebbe reso molto incerti i confini meridionali della Moscovia. Dunque nel 1653 l'Assemblea Nazionale Siemski-Sabor decise che lo Tsar doveva prendere i cosacchi sotto la sua protezione per difendere la fede ortodossa. Nel gennaio del 1654 un'assemblea cosacca chiamata Rada approvò l'unione con Mosca proposta da Khmilninsky. Si tratta dell'accordo di Perejaslav, molto importante l'accordo di Perejaslav, 8 gennaio 1654. I cosacchi giurarono fedeltà eterna allo Tsar. I particolari dell'accordo furono definiti a Mosca a marzo. Ai cosacchi fu riconosciuto il diritto di eleggere l'Etmano e gli altri capi. Furono confermati diritti giuridici e di proprietà esistenti, compresi i diritti all'autogoverno delle città. Le proprietà della corona polacca, dei magnati e della chiesa cattolica furono confiscate e distribuite alla nobiltà cosacca o alla chiesa ortodossa. Vennero presi dei provvedimenti anche per migliorare le condizioni dei contadini. L'accordo del 1654, però, attenzione, non fu un'alleanza, non proprio. Lo Tsar prese i cosacchi sotto la sua protezione, garantendo loro la difesa dai nemici. I cosacchi non pensarono alla creazione di un proprio Stato, né chiesero nuove leggi. Si limitarono a reclamare, di fronte agli ambasciatori della Moscovia, il giuramento e il fatto che lo Tsar giurasse che i loro diritti sarebbero stati rispettati. Tuttavia i boiari, inviati dallo Tsar, rifiutarono il giuramento perché sostennero che lo Tsar non poteva prestare giuramento ai propri sudditi. Il re di Polonia lo aveva fatto, ma lo Tsar di Moscovia rifiutò. Non si trattò dunque di un vincolo reciproco, di un patto tra eguali. Il rispetto dei diritti fu accordato ai cosacchi dallo Tsar solo come una concessione, una grazia da parte di un sovrano autocratico che può fare quel che vuole. In realtà Mosca concesse ai cosacchi solo un autogoverno militare. Per il resto ci furono molte limitazioni. I cosacchi furono inibiti anche nei rapporti con gli altri paesi. Di fatto però i cosacchi continuarono a godere di un'autonomia molto larga, molto maggiore di quella prescritta dagli accordi, perché il governo centrale della Moscovia riuscì ad affermare la sua autorità sui territori ucraini solo gradualmente e faticò a controllarli in maniera effettiva. In seguito la Moscovia abolirà del tutto l'autonomia concessa agli ucraini e imporrà a loro pesanti restrizioni, oltre a misure volte a reprimere la lingua e la letteratura ucraine. Gli ucraini sbagliarono a fidarsi dei moscoviti. Tuttavia bisogna rilevare che, dopo questa unione, molti ucraini iniziarono a recitare una parte importantissima nel governo russo, perché avevano la stessa religione dei grandi russi, ma erano più colti di loro e più vicini all'Occidente. Molti ucraini si distinsero quali i sostenitori della riforma di Pietro il Grande e dei suoi successori, e questo lo vedremo nel dettaglio nelle videolezioni future. La Polonia cercò di riconquistare i territori persi, non si rassegnò a perdere l'Ucraina orientale. La guerra cominciò nel 1654 e andò in maniera favorevole alla Moscovia. Moscovia ottenne molte vittorie e gli eserciti russi conquistarono Gomel, Mogilov e Polotsk. Poco dopo caddero anche Smalensk e Vitebsk. Come al solito vi ho scritto le parole straniere, le parole difficili qui alla lavagna. Nel 1655 gli eserciti moscoviti occuparono anche Minsk e Vilna. Vilna era la capitale della Lituania. Contemporaneamente i cosacchi ovviamente alleati dei russi presero Astrog e poi Rovno e poi Turuf e Pinsk arrivando alle porte di Lviv, Leopoli. La situazione divenne gravissima per la Polonia allorché intervennero anche gli svedesi e quindi la Polonia invasa dai russi e dai cosacchi fu invasa anche dagli svedesi. Svedesi che erano impensieriti dall'espansione moscovita in Lituania. Gli svedesi sottomisero Dvinsk, Poznagne, Kalisch e Varsavia. Il re Giovanni II Casimiro di Polonia dovette abbandonare il paese e la Polonia sembrò ormai annientata. Sembrava che dovesse scomparire la Polonia come stato. La fortuna della Polonia però fu il fatto che Svezia e Moscovia iniziarono a combattere tra di loro. La Moscovia si alleò con la Danimarca contro la Svezia e nel 1656 cercò la pace con la Polonia. Inizialmente le trattative fallirono perché la Moscovia pretendeva il possesso della Lituania e il riconoscimento dello zar di Russia come sovrano di Polonia dopo la morte di Giovanni Casimiro. Nell'ottobre 1656 si arrivò comunque ad un armistizio accantonando per ora i problemi non risolti. Polonia e Russia firmarono un accordo di cooperazione militare. L'alleanza giovò ad entrambi l'esercito Moscovita strappò Dvinsk e Dorpat alla Svezia. In realtà Dorpat è semplicemente il nome tedesco di una importante città della Lettonia che oggi si chiama Tartu. La Polonia riuscì a riprendersi dalla sua situazione disperata grazie ad una sollevazione popolare. Il re polacco poté tornare e gli svedesi dovettero arretrare. Nel 1657 furono ripresi colloqui tra Polonia e Russia anche se per il momento senza risultati. Ovviamente tutte queste cose sono state da me spiegate all'interno delle video lezioni sulla storia della Polonia perché riguardano le guerre che si combattevano in quel periodo all'interno del territorio polacco. Siccome però ovviamente queste guerre riguardavano non solo la Svezia ma anche la Moscovia lo stiamo vedendo comunque io ripeto questi fatti perché dobbiamo comprendere la storia della Moscovia. Per poterlo fare dobbiamo inserirla in un contesto quindi dobbiamo parlare anche ovviamente della Polonia anche perché i cosacchi appunto si trovavano anche in Polonia. Allora nel frattempo che succede? Attenzione in Ucraina la morte di Milnitsky avvenuta sempre nel 1657 provocò disordini molto gravi, un caos, un'anarchia in Ucraina. Sorgevano continuamente capi polacchi che si combattevano tra di loro e successe che colui che riuscì ad avere la supremazia tra questi capi polacchi cioè il nuovo etmano Ivan Vygotsky insoddisfatto del trattamento russo che abbiamo visto non era molto clemente con i cosacchi. Cosa fece questo Vygotsky? Passò dalla parte della Polonia ovviamente. Nel 1658 il governo polacco con il trattato di Gadec promise di estendere all'Ucraina le clausole che l'anno successivo con il trattato di Lublino avrebbero sancito l'unione tra Polonia e Lituania, clausole che in realtà già esistevano. Inoltre i territori di Bratislav, Kiev e Cernigov avrebbero formato il Gran Ducato della Russia incluso nello Stato polacco. L'etmano sarebbe stato scelto tra i candidati presentati dai cosacchi e i rappresentanti dei cosacchi avrebbero avuto il diritto di sedere in Senato. Inoltre i cosacchi avrebbero avuto una propria amministrazione, una propria moneta, mentre gli ortodossi, ricordate che i cosacchi erano quasi tutti ortodossi, avrebbero goduto degli stessi diritti degli altri cristiani, tolleranza nei confronti degli ortodossi da parte della cattolica Polonia. Nel novembre 1658 la Moscovia, preoccupata da questi avvenimenti che implicavano ovviamente la perdita dell'Ucraina, firmò un armistizio di tre anni con la Svezia. In realtà, nonostante le condizioni estremamente favorevoli del trattato di Gadec, abbiamo visto le concessioni molto forti del regno di Polonia ai cosacchi, la maggior parte dei cosacchi non seguì Vygotsky e rimase fedele alla Moscovia. Ma voi direte, ma come mai i cosacchi, gli ucraini tendono spesso dalla parte di Mosca, anche se Mosca li tratta male, mentre la Polonia aveva concesso agli ucraini molto di più rispetto alla Russia. Non lo so, chiedetelo agli ucraini e soprattutto chiedetelo agli ucraini dell'epoca, però appunto abbiamo visto che i cosacchi spesso si dimostravano insoddisfatti del trattamento dei russi e si ribellarono. Infatti anche in questo caso, nel 1659, al posto di Vygotsky, Vygotsky fu cacciato e al suo posto fu eletto, attenzione, il figlio di Bogdan Khmelninsky, ovvero Yuri, Yuri Khmelninsky, il quale appunto era filo russo. Una volta ripresa in mano la situazione, la Moscovia impose condizioni ancora più dure di quelle del 1654. L'Etmano-Cosacco avrebbe potuto essere eletto e deposto solo con l'approvazione dello zar. Inoltre l'Etmano avrebbe potuto condannare un capo-cosacco solo con il consenso di Mosca. Nei centri principali dei territori cosacchi furono istituiti dei voivodi nominati dallo zar e infine lo zar avrebbe potuto utilizzare senza limiti l'esercito cosacco. E infatti, come ho detto prima, ben presto l'atteggiamento dei cosacchi nei confronti dei russi ancora una volta cambiò. L'atteggiamento di Yuri Khmelninsky si rivelò ambiguo quando la Polonia, dopo la pace di Oliva del 1660, fu in grado di ammassare forze ingenti contro la Moscovia e quindi i cosacchi pensarono ancora una volta di cambiare campo e di schierarsi con la Polonia. Succede che lo zar raggiudicò a questo punto conveniente stipulare una pace con la Svezia, la pace di Cardis. La pace di Cardis è siglata nel 1661. Furono riconosciute le vecchie frontiere tra Svezia e Russia e la Svezia si impegnò a non intervenire nella guerra con la Polonia. La guerra con la Polonia che la Russia iniziò a perdere, tanto da essere ricacciata oltre il Dniepr fino a Novgorod-Seversky. Nel frattempo in Ucraina si sviluppò l'ennesima guerra civile tra etmani rivali. Nell'ottobre del 1666 ne uscì il vincitore Piotr Doroshenko, l'ennesimo etmano degli ucraini, che si pose sotto la protezione del Cannes di Crimea, quindi degli ottomani. Pensate, i cosacchi prima erano sottomessi ai polacchi, poi si erano alleati con i russi, poi adesso addirittura accettano la sovranità degli ottomani. A seguito di questi eventi, le trattative di pace tra Polonia e Moscovia furono finalmente coronate da successo. Nel 1667 fu stipulato l'importantissimo armistizio di Andrusova, che doveva durare 13 anni e mezzo durante i quali sarebbe stata preparata una pace definitiva, la cosiddetta pace perpetua. Questo armistizio era del tutto favorevole alla Moscovia. La Moscovia conservò Smalensk, la Polonia riconobbe a Mosca la sovranità su tutta l'Ucraina, ad est del Dniepr, e mantenne, attenzione, il possesso dell'Ucraina occidentale e della Bielorussia. Quindi la Polonia mantiene l'Ucraina occidentale e la Bielorussia, però attenzione, l'Ucraina orientale a est del Dniepr passa definitivamente sotto la sovranità della Russia moscovita. E Kiev, cheppure si trova, attenzione, non ad est del Dniepr, ma ad ovest del Dniepr, Kiev è un piccolo territorio appunto a ovest del Dniepr, furono ceduti alla Moscovia per due anni. Tuttavia, trascorsi due anni, Kiev non fu restituita alla Polonia, divenne stabilmente un possesso di Mosca. Inoltre fu deciso che la comunità militare di Zaporosce, la famosa comunità militare dei cosacchi di Zaporog, la comunità militare di Zaporosce, ovvero la Zaporoskaya Sech, sarebbe stata amministrata in comune dalla Polonia e dalla Russia. È vero che la pace di Andrasava andò a ratificare una situazione di fatto, vi ricordate, già esistente in Ucraina dal 1654, dal tempo del trattato di Perejaslav. Tuttavia, adesso la Polonia fu costretta a riconoscere ufficialmente che gran parte dell'Ucraina fosse passata sotto il controllo di Mosca. I cosacchi avevano portato avanti le loro rivolte per consolidare la loro organizzazione politica e la loro organizzazione militare sotto la protezione di uno dei grandi stati confinanti. Ma non andò così. I cosacchi rimasero divisi tra Polonia, Moscovia e Crimea-Tatara. Il conflitto modificò la situazione nell'Europa orientale. La Svezia conservò la sua posizione di preminenza e di dominio sul Mar Baltico. La Polonia invece perse, a causa della sua struttura sociale e politica antiquata, perse proprio da tutti i punti di vista. Abbiamo ampiamente parlato del declino della Polonia e delle sue cause nelle video lezioni dedicate alla storia dell'Antuania-Polonia. La debolezza della Polonia creò un vuoto di potere e iniziò ad attrare l'interesse rapace dei suoi vicini. La Polonia evitò la catastrofe completa solo grazie allo scontro tra i suoi due nemici, Svezia e Moscovia. La Moscovia, da parte sua, dimostrò di non essere in grado di combattere da sola contro Svezia e Polonia. Necessariamente dovette allearsi o con l'una o con l'altra. La Moscovia non riuscì a insediarsi in Polonia, né a conquistare territori sul Mar Baltico. Tuttavia, come abbiamo appena visto, la Moscovia conquistò larghi pezzi di Ucraina, compresa Kiev, l'antica capitale russo, portando la sua frontiera fino al Dniepr. La Polonia non riuscirà ad ottenere una rivincita contro la Russia perché sarà impegnata contro gli ottomani. Neppure un ottimo sovrano generale, quale il famoso Giovanni III Sobieski, riuscirà a bloccarne l'avanzata. Gli ottomani minacciarono anche i russi, soprattutto durante il regno del successore di Alessio, cioè lo zar Fyodor III, dal 1676 al 1682. Dopo il 1676 i cosacchi si rivoltarono contro Darashenka e sembrò che la Russia dovesse inglobare anche l'Ucraina occidentale. Tuttavia in Ucraina occidentale arrivarono gli ottomani che si imposero militarmente nel 1667 e nel 1668. Guardate l'incredibile espansione dell'impero ottomano. I turchi arrivarono anche in Ucraina, molti non lo sanno. Nel 1681 Mosca fu costretta a riconoscere la prevalenza dell'impero ottomano sull'Ucraina, a ovest del Dniepr, ma poté conservare Kiev. Nonostante la celebre vittoria a Vienna del 1683, Giovanni III Sobieski non riuscì a conquistare la Podolia e gli altri territori occupati dall'impero ottomano. Sobieski sognava di far tornare grande la Polonia, proponendola come il baluardo della cristianità in una coalizione antiturca con l'impero germanico, con Venezia e con il Papa. Sobieski aveva bisogno che anche la Moscovia partecipassi a questa coalizione. Il prezzo da pagare fu la trasformazione dell'armistizio di Andrasava in una pace perpetua. Siamo nel 1786. La pace perpetua tra Russia e Polonia. La Polonia rinuncia definitivamente a Kiev e all'Ucraina ad est del Dniepr e si impegna a garantire la libertà religiosa degli ortodossi. In cambio la Russia pagò un indennizio di un milione e mezzo di rubli oro e promise di aiutare la Polonia contro i turchi. Con questo trattato, firmato sotto la reggenza della principessa Sofia che abbiamo rievocato prima, le conquiste di Alessio furono rese stabili. Nonostante le acquisizioni territoriali, la Russia recitava ancora un ruolo minore nelle vicende europee. Basta pensare al fatto che Mosca aveva ambasciatori soltanto in Polonia. È solo dal 1673. Certamente la Moscovia era importante per i paesi dell'Europa settentrionale da un punto di vista commerciale, ma essa non era ancora entrata nel concerto delle potenze europee e delle loro mutevoli alleanze. Non solo a causa della lontananza geografica, ma anche per via del fatto che molte potenze occidentali vedevano la Moscovia come eretica e dispotica. D'altra parte i Moscoviti conoscevano poco l'Europa occidentale e la sua situazione politica. Bene, per ora concludiamo qui. Spero che questa video-lezione vi abbia interessato. Abbiamo parlato della politica estera dello Zara Alessio Ramanov. Nella prossima lezione continueremo a parlare dello stesso Zara Alessio Ramanov, ma parleremo della sua politica interna. Arrivederci a tutti. Grazie.